Tra ieri e oggi primo giro di tamponi, sospiro di sollievo, esito negativo per l'intero gruppo squadra che domani pomeriggio tornerà ad allenarsi in vista della ripresa del campionato che però è stata posticipata a tal proposito infatti. Il presidente della Lega Pro, sentiti i membri del consiglio direttivo, considerate le condizioni di incertezza e il periodo estremamente delicato derivante dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, ha disposto il posticipo della seconda giornata di ritorno del campionato di Serie C a mercoledì 2 febbraio 2022, quando il Pescara affronterà in casa la Carrarese mentre il Teramo sarà di scena a Siena. Dunque prima partita del nuovo anno del 2022, sabato 15 gennaio, Vis-Pesaro-Pescara ore 14.30 alla stessa ora, il Teramo affronterà in casa il Modena. Per il calcio mercato, ieri vi abbiamo dato la notizia della chiusura della trattativa col Bari per l'ingaggio in prestito secco della 30 centrocampista atteso in città, appunto Carlo Derisio, tra lunedì e martedì della prossima settimana. News che avevamo anticipato sul nostro sito www.reteotto.it lo scorso 24 dicembre arriverà qualche altro elemento ma prima bisognerà sfoltire la rosa. Ai saluti Frascatore e Marilungo in procinto di firmare col Teramo le formule prestito su prestito per Marilungo approdato in estate al Delfino dalla Ternana e prestito secco per Frascatori di proprietà del club Biancazzurro. Prima però il suo delizio Teramo deve concretizzare la cessione al Modena di Matteo Piacentini. C'è già l'accordo tra le due società, fumata bianca nei primi giorni della prossima settimana. Piacentini classe 99 lascerà il Teramo dopo tre stagioni e mezza e 109 presenze. Tornando al Pescara, altresì in uscita Rizzo, Valdifiori, San Nogo, probabile ritorno al Benevento, Galano e Bocic. Potrebbe partire anche Michael De Marchi, forse ma non è scontato Nzita, stimato da Uteri malgrado nelle ultime partite gli sia stato preferito Rasi per inciso in crescita e comunque in caso di cessione Nzita non resterebbe in C. Come già detto, il portiere Nicolò Radaelli, classe 2001, si trasferisce a titolo definitivo all'Alcione Milano, squadra di Serie D. Nei giorni scorsi al Delfino era stato accostato il 27enne centrocampista greco Sunas, di proprietà del Perugia. In realtà si tratta di una mezzala trequartista e dunque non funzionale, non adatto al sistema di gioco adottato da Auteri, ovvero il 3-4-3.